abiti insanguinati teste mozzate e cicatrici dappertutto a venezia sono tornati gli zombie in 200 sono sbarcati in laguna mischiandosi tra la folla in un'allegra si fa per dire passeggiata da piazzale roma lungo la strada nuova è la seconda edizione di zombie walk venezia uno strascico del carnevale a inizio quaresima culminante nella battaglia tra gli hunter i cacciatori e i morti viventi la goliardica iniziativa che comprende anche un concorso per il miglior trucco il miglior costume il miglior zombie splatter è organizzata da venice metal events e vanta persino la benedizione della fox la casa produttrice del serial di culto the walking dead anche se a prima vista sono soggetti poco raccomandabili gli zombie obbediscono a precise regole di bon ton primo non entrare nei negozi e poi non spaventare i bambini del resto per i piccoli ci vuol ben altro ci vuol ben altro